Ciao Melissa. Ciao, ciao a tutti. Qual è il segreto della tua bellezza? Ma il segreto della mia bellezza sicuramente devo ringraziare mamma e papà, la prima cosa, devo ringraziare il mio sangue sardo e poi devo dire che sicuramente condurre una vita sana, essere sereni, felici è la base di tutto e poi ovviamente tanti piccoli segreti, da donna, da donna. Quale sport preferisci praticare per la tua forma fisica? Io sono sempre stata una grande sportiva, da quando ero piccolissima che facevo karate, andavo in bicicletta, ho giocato a calcio, a cinque anni facevo già ginnastica artistica e quindi nuotavo da buona sarda, insomma il mare, il nuoto erano alla base di tutto e poi adesso ho cambiato, vivo a Milano, qui in una città, non ho più tutto il tempo per fare tutti questi sport e quindi faccio un allenamento che si chiama funzionale, una specie di crossfit, insomma un allenamento che mi aiuta a stare molto bene, poi adesso ho trent'anni e devo anche stare a tempo. Sei giovanissimo. Grazie. C'è un programma che ti piacerebbe fare? Ma ce ne sono tanti che mi piacerebbe fare, sai, sono solo quindici anni che lavoro, ne ho sperato altrettanti davanti e quindi ci sono tante cose che mi piacerebbe ancora fare. Negli ultimi anni mi sono dedicata tanto allo sport, al calcio soprattutto, quindi con cinque anni di Kitaka, prima contro campo, adesso quelli che è il calcio, insomma mi piacerebbe anche continuare con questo filone, mi diverte molto, appunto io sono una grande sportiva, seguo tanto lo sport, quindi mi diverte, mi piace molto, quindi vediamo nel futuro, insomma, se questo potrà continuare. Un saluto per gli amici di Lifestyle. Assolutamente. Amici di Lifestyle vi mando un bacio grandissimo e a presto. Grazie.